Ferma, 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 fermati, fermati, fermati. Scusa. Avessi profanato con le mie mani indegne questo sacro tempio. Rimedia il mio peccato. Le mie labbra. Sono pellegrine. Sono rosse dalla vergogna, ma... E se con un bacio possono cancellare questo tocco indelicato? La vostra mano giudicate con più calma, che solo umile devozioni in fondo ha mostrato. Anche i santi hanno mani che i pellegrini hanno toccato. E chi torna dal santo sepolcro, suonire palma a palma. E non hanno anche delle labbra? I santi. Sì. 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 Ma le devono usare in devozione. Allora permettimi. Cara santa, permetti a queste labbra di fare quello che facevano le mani. Ti prego, la mia fede diventerà... Diventerà... Disperazione. I santi non si muovono, anche quando ascoltano le altre preghiere. Allora resta fermo. Mentre io colgo il frutto delle mie preghiere. E così... Il mio peccato è stato cancellato dalle vostre labbra. Allora le mie labbra hanno il peccato che... Che mi hai dato. Il mio peccato? Sì. Ma che dolce causa messa giù. Ma io ti bacio. Tu ma ci danni io.